27, 30 o 35, 27 devi mettere più, devi mettere più manteca, ripeto gente, devi prendere i ingredienti, saccarosi, crema di lecce e manteca, calcolare i valori nutrizionali e rebalanceare, perché più che nulla vai perdere la gordura, no? Quindi quella gordura ti complementa, hai che aumentare un po' la manteca e diminuire il crema di lecce, la manteca è un 82% di gordura. Balanzamento, gente, apprendano il balanzamento, gente, io so che c'è gente che ancora parla che sono numerosi e non serve di nada, come non serve di nada? Stai vedendo dopo quanti problemi abbiamo, come faccio per tracare questo con l'altro? Faccio, una volta che apprendano a balanzare potete trocare, il suo marido può ricargare se vuole, ok? Ricargare è vecchio, è più bonito, è più bonito.